Attimi di panico nel pomeriggio di martedì in via Rosso di San Secondo, dove uno scooter con a bordo marito e moglie ha travolto due persone, un nisseno e il figlio di otto anni, che stavano attraversando la carreggiata nei pressi dell'Igeo Classico Ruggero VII. Destano preoccupazione le condizioni del bambino, che ha subito un serio trauma cranico per via delle ferite alla testa riportate nel corso dell'incidente, ed è attualmente ricoverato all'ospedale di Cristina di Palermo, dove è stato trasferito. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Municipale, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.